Il raduno è l'inizio della settimana di manifestazioni denominata Fra Terra e Mare e quindi parte da sabbia d'oro e si evolve nell'entroterra. Questo primo raduno internazionale auto e moto d'epoca della riviera Friulano è nato dalla volontà dei sindaci e delle amministrazioni comunali del territorio rivirasco di mettersi in rete e di far esaltare quelle peculiarità della loro area. Un'area che ha delle attrattive bellissime, le hanno visitate, le fanno vedere i radunisti proprio in questi momenti e le faranno vedere anche i loro amici in seguito. Sono contento di partecipare a questo meeting, primo raduno d'auto riviera Friulana. Questa è la mia moche, la macchina dell'estate, quella dell'inverno è una rover del 73-40 anni. La passione è da sempre, però tempo libero ce ne vuole tanto per queste belle creature e pertanto mi sto dedicando completamente a loro. Io sarei più per il torno delle vecchie meccaniche, delle vecchie linee, delle vecchie velocità perché c'è anche quello e quando hai una macchina che va massimo 80 all'ora ti accorgi di tante cose che quando hai un'auto normale non ti accorgi. non ti accorgi di tante cose Ma io sono andato La tuamacthe